Io chiederei direttamente a Pasquale Grottola qual era il quadro della situazione per cui voi avete ad un certo punto valutato di rivolgervi a Vigilanza Group, qual era il tipo di problema specifico che voi dovevate risolvere? Salve, buongiorno a tutti. La necessità nasce da un'analisi dettagliata per quanto riguarda gli atti predatori, lì dove l'analisi ci diceva che date le tempistiche e le modalità di svolgimento di questi atti predatori avevamo necessità di mettere in campo qualcosa in grado di anticipare quantomeno almeno l'allarme dando e riducendo i tempi di azione della stessa intrusione dell'atto predatorio in sé per sé e regalando la sensazione a chi ha chiesto questo tipo di intervento di essere sicuramente più protetti anche in termini di vigilanza. Quindi che tipo di interventi avete fatto, avete concordato con vigilanza? Certo, allora l'analisi ci dava un dato molto certo che tutti i reati predatori consumati in tempi celerissimi e talvolta con un'efficacia e un'irrompenza molto importante, basti pensare che un vetro che magari 30 anni fa si rompeva con una martellata adesso necessita di un furgone che magari può creare dei danni sicuramente molto più importanti, ma tutti questi reati benché voglio dire fatti in maniera molto violenta hanno bisogno di una preparazione, quindi piuttosto che lo spostamento di una panchina di cemento messa in protezione, dello spostamento delle telecamere, quindi in questa fase di preparazione dell'atto violento, chiamiamolo così, di intrusione siamo intervenuti proprio in quel frangente. Quindi con un sistema di videoanalisi che ci permette di analizzare l'avvicinamento e la preparazione, la fase di preparazione da parte dei malfattori di un atto predatorio e a quel punto che si interviene con una serie di procedure che sono dall'intervento delle guardie giurate piuttosto che uno stato di allarme generale del punto vendita, che rientrando nella psicologia del malfattore è sicuramente un effetto sorpresa che fa in modo che tutto ciò non avvenga riducendo moltissimi tempi di intervento. Quindi gli effetti che voi avete rilevato dal momento in cui avete implementato queste soluzioni sono positivi, mi sembra di capire. Assolutamente sì, anche perché analizzando appunto la psicologia di chi delinque si sente osservato da un impianto attivo, quindi nello stesso momento lui sa di essere stato individuato al di fuori del fatto che magari tramite passamontagna o altri tipi di escamotaggi non si riesca a vedere il viso, ma lui in quel momento ha percepito che è stato scoperto. Quindi sa che da quel momento è partita una serie di allarmi che possono essere dall'intervento delle forze dell'ordine, allo stesso intervento dei nuclei operativi sul territorio, creando questo effetto sorpresa che lo costringe praticamente alla fuga. Io vorrei concludere con una domanda a Pasquale su quello che è dal tuo punto di vista il trend della necessità di sicurezza, quindi sicurezza nel senso completo del termine, quindi chiamiamola più correttamente di tutela del patrimonio aziendale nell'ambito del retail e della grande distribuzione. In questo momento, chiamiamolo storico, in cui la trasformazione digitale di fatto ha cambiato, stava cambiando prima del Covid, stava cambiando lentamente, almeno in Italia, le abitudini dei consumatori. Il Covid ha impresso un'accelerazione molto importante, però a questo punto si cominciano a delineare sullo sfondo degli scenari che poi riprendono in qualche maniera a quello che era stato il trend che aveva di fatto riassunto l'ingegner Pedone all'inizio di questa nostra conversazione. Ecco, allora, provando a vedere in avanti, qual è secondo te un overview che si può realisticamente stimare? Sicuramente gli ultimi periodi caratterizzano delle differenze importanti con quelli che erano gli atteggiamenti sia del consumatore che degli interessi sulle differenze inventariali che sono mutate nel tempo. C'è molto più spesa di tipo elettronico, quindi la web spesa, diciamo così, è sicuramente aumentata e nello stesso tempo però è cambiata anche la psicologia del cliente che si muove su delle esigenze completamente diverse. È anche vero che per quanto riguarda, voglio dire, i reati di furto all'interno dei punti di vendita, si è in un certo senso limitata nel corso di questo periodo di Covid perché è aumentato sia il controllo in afflusso e chiaramente in deflusso del cliente, ma aumentando anche la necessità di avere maggior distanza tra clienti, significa che non c'è più la possibilità di operare all'interno di un punto vendita in maniera occulta. Cioè, sei comunque più visibile alle telecamere, sei comunque più visibile al personale dipendente perché il distanziamento ha imposto anche questo tipo di... Il futuro, per il futuro tutto sarà legato a quelli che saranno gli humor del cliente. Certo, con le restrizioni date dal Covid ci sono sicuramente maggior controlli, sia di natura safety che di natura security, health, come dicevamo prima. Quindi un soggetto sottoposto a qualsiasi tipo di controllo, che sia di natura diversa, si sente comunque una persona controllata. Quindi secondo me il trend... protetta. Come? Anche protetta, controllata anche nel senso di protetto. Assolutamente sì, ma io faccio riferimento in particolare a chi ha intenzioni diverse e quindi chi vuole derubare comunque dei prodotti avrà delle difficoltà in più. Quindi io mi aspetto sicuramente un trend positivo in termini di diminuzione dei furti all'interno dei punti vendita. Grazie, grazie Pasquale. Grazie.